Mentre il senato accademico dell'Università Orientale di Napoli intima gli studenti di liberare la sede della facoltà, in merito al conflitto in Medio Oriente ha fatto una scelta di campo anche il liceo Gian Battista Vico. La prima e al momento unica scuola superiore napoletana a occupare insegno di solidarietà nei confronti della popolazione palestinese. Il collettivo dello storico liceo classico di via Salvatore Rosa ha occupato la scuola srotolando sulla facciata dell'edificio un'enorme bandiera della Palestina, la stessa che poche settimane fa comparve sulla facciata di Cassel Sant'Elmo alla prima reazione di Israele dopo gli attentati di Hamas contro i kibbutz. Gli studenti chiedono lo stop ai bombardamenti su Gaza e denunciano le lacune dell'informazione nella narrazione del conflitto ed è per questo che con le attività didattiche ferme saranno organizzate iniziative e dibattiti per sottolineare il genocidio in atto contro i palestinesi. Portavoce degli studenti del Vico, la rappresentante d'istituto Marzia De Magistris. Ci è sembrato fondamentale dare un segnale e rispondere anche noi all'appello lanciato all'Università di Birzeit in Palestina perché gli studenti ancora non avevamo preso una posizione chiara e definita riguardo alla questione palestinese, riguardo al genocidio che è in atto in questo momento e il silenzio inaccettabile dei nostri governi e delle nostre istituzioni. Per cui ci è sembrato doveroso prendere posizioni appunto proprio come studenti partendo da quelli che sono i nostri spazi, i luoghi del sapere e soprattutto i luoghi del sapere, della cultura e dell'informazione.